Cari amici, dalla Francia arrivano immagini che evocano la seconda rivoluzione francese, i precari contro l'elite, i perdenti della globalizzazione contro i vincitori. Il simbolo della protesta è il gile giallo, inizialmente veniva vestito da chi protestava contro il rincaro del carburante, in particolare del diesel, ma oggi viene vestito da uno schieramento più ampio perché al nucleo originale della protesta si sono giunti dei gruppi più politicizzati sia di destra e sia di sinistra. Ciò che li tiene insieme è una critica alla globalizzazione e alle sue conseguenze economiche. Ci sono due libri che a mio modo di vedere aiutano a capire cosa è successo e cosa potrebbe succedere anche in Italia, il primo dei quali è Fratture Francese di Christophe Guilly, purtroppo non è stato tradotto in italiano. Guilly è un geografo e cartine e sondaggi alla mano ci dimostra alcune cose. La prima è che agli occhi degli elettori il partito repubblicano e il partito socialista erano diventati la stessa cosa, cioè erano perfettamente intercambiabili e puntavano allo stesso tipo di elettore, cioè il borghese più o meno danaroso che vive nelle grandi città ed è cosmopolita per nascita o per vocazione. Questo l'ha capito benissimo Macron che ha fondato un terzo contenitore, un terzo partito che è andato a svuotare proprio i repubblicani e i socialisti. Lo stesso libro ci mostra che invece Marine Le Pen prende i voti nelle zone rurali e nelle zone deindustrializzate. chi sono quindi questi gilet gialli? Sono i contadini in difficoltà, ancora più in difficoltà a causa delle direttive dell'Unione Europea, sono i burocrati che vanno in pensione e temono che il loro potere d'acquisto sia fortemente ridotto dall'euro, sono gli operai che hanno visto delocalizzare le aziende in cui lavoravano. C'è poi un secondo libro, vi dicevo, invece si può leggere in italiano, è un romanzo quindi completamente diverso, si chiama Aprile e è stato pubblicato da Fandango, l'autore è Jeremy Lefevre, che è uno scrittore francese ovviamente. Questo libro è addirittura profetico, fu scritto nel 2017 e mette in scena una vera e propria seconda rivoluzione francese in cui sono gli scontenti, i perdenti della globalizzazione ad attaccare il centro di Parigi e a vincere. Come finisce questa rivoluzione, se nel terrore o bene, ve lo lascio scoprire da soli, però tutto sommato la vicenda francese spiega anche qualcosa di quello che sta succedendo in Italia, dove i due partiti che prima rappresentavano la destra e la sinistra, Forza Italia e il Partito Democratico, effettivamente si stanno avvicinando, soprattutto il Partito Democratico nella versione renziana. In conseguenza di ciò probabilmente gli elettori si sono orientati verso chi ha preso strade più decise, la Lega a destra e i 5 Stelle, non so se si possono definire di sinistra, comunque i 5 Stelle nella parte dell'elettorato che chiede il reddito di cittadinanza, cioè di essere assistito. Vedremo come andrà a finire.